Con la stessa violenza con cui minacciavano ed estorcevano soldi e commessi agli imprenditori della Piana del Sele, volevano esercitare anche il controllo dell'amministrazione comunale di Ponte Cagnano per piazzare un sindaco al loro gradito e connivente. E per avere finanziamenti europei si sono anche inventati un impianto di cogenerazione fantasma. È stata denominata Operazione Perseo. A condurla i carabinieri di Battipaia, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Salerno, 16 le misure cautelari, 14 in carcere, una ai domiciliari e un'interdizione. Decapitato il clan Pecoraro-Renna, a cominciare dal capo Francesco Mogavero, da una parte le bombe e gli attentati violenti per convincere imprese del settore agricolo e dei videogiochi ad affidarsi alla loro ditta di trasporti, dall'altra una costante pressione politica e così alla vigilia del Consiglio Comunale del 31 maggio 2016, quando si doveva approvare il bilancio e un solo voto contrario avrebbe fatto cadere l'amministrazione di Ernesto Sica, il consigliere di opposizione Antonio Anastasio ha ordinato al clan di andare a convincere Luigi Bellino, membro della maggioranza. La prima volta sotto casa di sera gli chiedono di passare all'opposizione, la seconda volta nel cantiere dove lavorava gli ordinano di non presentarsi in aula, ma Bellino denuncia tutto ai carabinieri. Il giorno del Consiglio Comunale, quel 31 maggio, lei ha detto c'era addirittura un controllo parastatale? Sì, in effetti monitoravano i movimenti di quelli che erano il sindaco e i consiglieri del Comune, addirittura scortandoli a piedi dalla sede comunale al posto dove si è tenuta l'assisa quel giorno. Ritenete che questo episodio sia isolato o si possa iscrivere in un'attività più ampia di condizionamento della vita amministrativa di Ponte Cagnano? E' bene dircelo, gli episodi che riusciamo a provare spesso sono solo appunto dell'iceberg, per cui credo che gli episodi che abbiamo accertato sono solo una parte di quelli che potrebbero esserci a valle di questa, a monte di questa associazione.